E' una magia antica, quella del porto, dove ogni mattina attraccano i suoni e i racconti del mare, dove la bellezza si perde tra i vicoli della città vecchia e il sole ancora flebile si impiglia tra le reti delle barche. E' proprio tra gli anfratti del porto che sorge una vecchia torre, l'antico rifugio dei pescatori, che prende una nuova vita risvegliando una nuova luce, fatta di maraviglia, riflessi e preziosi dettagli. E' proprio tra le reti delle barche. Iconic Bacca i visi Hypnotic Racconti del porto Harbour. Luxury living.